Grazie a tutti. 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 Noi possiamo cominciare a parlare seriamente di ripresa economica del Paese e anche di una ripresa di vita sociale quando avremo la certezza non di aver risolto il problema del contagio. Ce lo trascineremo ancora per mesi, ma quando avremo la certezza che è stato contenuto il contagio. Cioè è stato bloccato davvero il percorso di crescita delle infezioni. Contiamo di arrivare a questo risultato fra fine aprile e inizio maggio, se manterremo comportamenti di grande responsabilità. Poi potremo cominciare a ragionare sulla ripresa di attività economiche. Potremo cominciare già da fine mese a ragionare sulla ripresa, per esempio, delle attività nel campo dell'edilizia. Abbiamo gran parte di lavoratori che sono impegnati all'aperto, non c'è un problema di congestione del personale. Potremo dare respiro alle attività di manutenzione, per esempio, delle strutture balneari. Ci sono tanti operatori balneari che ci chiedono di riprendere l'attività di manutenzione per la tutela degli impianti. Ci sono attività alimentari, produzione di cibo preconfezionato da consegnare a domicilio. Cioè attività anche che si sviluppano in condizioni di garanzia dal punto di vista igienico-sanitario e così via. Bene, alla fine del mese potremo cominciare a ragionare su come far ripartire ad una ad una queste attività. Ma la precondizione ovviamente è che abbiamo il pieno controllo della epidemia. Il rischio, in caso contrario, è molto semplice. Ci illudiamo di riprendere la vita produttiva e sociale del Paese. Fra non più di due settimane siamo ricostretti a chiudere tutto. E veramente a quel punto diventa una tragedia. Una seconda considerazione. Teniamo conto che noi non torneremo alla vita normale. Dalle cose più semplici. Le mascherine. Noi per mesi dovremo portare e indossare le mascherine. Perché anche se spegniamo i focolai, la quantità di cittadini italiani che sono contagiati è enorme. Cioè vi sono decine, centinaia, migliaia, i nostri concittadini che sono asintomatici. Cioè hanno contratto il virus, hanno avuto il contagio, ma non hanno avuto grandi problemi, non hanno avuto patologie particolari. Bene, anche se non hanno avuto febbre alta, tosse, difficoltà polmonari, quelli contagiati asintomatici sono soggetti che trasmettono comunque il contagio. Quindi è evidente che noi non torneremo, anche quando si riprenderà l'attività economica, la vita pubblica, non torneremo alla situazione di prima. Avete visto che in Lombardia, il Presidente della Lombardia ha fatto un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si è fuori di casa. Noi non abbiamo adottato questa misura per una ragione semplice, perché vogliamo prima mettere in produzione 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine. Poi faremo alla fine del mese anche noi un'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina. In questo momento stiamo lavorando appunto su questo obiettivo, produrre più di 3 milioni di mascherine. La nostra idea è questa. Dalla prossima settimana cominciamo a distribuire mascherine alle farmacie, ai medici di medicina generale, alle residenze sanitarie assistite, alla Caritas, ai servizi sociali dei comuni, se ci viene garantito che vengono consegnate le mascherine. Cioè vogliamo cominciare a distribuire gratuitamente ai settori sociali più deboli, i farmacisti conoscono i propri clienti in larga misura, i medici di medicina generale possono distribuirle ai propri pazienti. Vogliamo dunque fare una prima distribuzione di massa sui soggetti più deboli gratuitamente. Vediamo di arrivare a tutte le famiglie almeno con due mascherine e poi pensiamo di mettere in vendita presso i supermercati e le tabaccherie a prezzo dimezzato rispetto a prezzo ai costi. Le mascherine? Questo lo faremo anche per evitare fenomeni speculativi anche sulle mascherine. Quindi quando avremo immesso nelle famiglie 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine, allora renderemo obbligatorio l'uso della mascherina quando si va fuori di casa. Questo avverrà fra due settimane e non di più, ma vogliamo prima produrre e distribuire questi 3 milioni di mascherine. Infine, un altro elemento di grande attenzione, la regione Campania sta già provvedendo da oggi ad acquistare il vaccino anti-influenzale. Anche sul vaccino anti-influenzale noi rischiamo di avere una guerra per l'accaparramento del vaccino. Vogliamo partire un po' in anticipo per non trovarci a ottobre senza le scorte necessarie di vaccino. Dobbiamo sapere che i mesi di ottobre e novembre saranno mesi delicatissimi, perché avremo la coda dell'infezione coronavirus, ma avremo anche i primi casi di influenza, che avranno in tantissimi casi la stessa sintomatologia del contagio da virus. Quindi sarà una fase complicata da gestire. Anche per questo noi dobbiamo garantirci oggi il massimo contenimento del contagio da coronavirus. Altrimenti a ottobre e novembre rischiamo di avere una situazione caotica e di avere una valanga di pazienti che si riversano sugli ospedali. Come vedete la questione è complicata. Dobbiamo gestirla con serenità, ma sapendo bene quali sono i problemi che abbiamo di fronte. Intanto voglio ribadire che è vietato muoversi da casa. Faccio un appello particolarmente accorato per questo fine settimana. Rimanere a casa è essenziale. Se in questo fine settimana ci rilassiamo e ci riversiamo nelle strade, fra due settimane conteremo le migliaia di nuovi contagi. Chiaro? È chiaro che sarà una Pasqua quella di quest'anno che ci ricorderemo tutti quanti. Saranno giorni complicati, inutile nasconderlo, ma dobbiamo stringere i denti ed evitare atti di irresponsabilità. Andare in giro è vietato. Si può uscire soltanto per problemi di dotazione alimentare, per problemi sanitari, per problemi di acquisto di medicine, ma per nessun altro motivo. Lavoro essenziale, nessun altro motivo. Saranno sospese le manifestazioni religiose. Da questo punto di vista direi a tutti di seguire l'esempio straordinario di Papa Francesco. Se il Papa celebra una messa a Piazza San Pietro vuota, lancia un segnale a tutti quanti. Vuol dire che bisogna rispettare le regole e questa volta vivere anche i momenti di fede a casa. A casa, senza assembramenti, senza uscire per strada, senza dare vita a manifestazione. Questo è l'esempio che viene dal Papa, che va seguito con grande rigore da tutti. In queste ore stiamo lavorando perché c'è il pericolo di rientri dal nord verso la Campania. È il sud. Ci saranno posti di blocco ai caselli autostradali, ci sarà un controllo preventivo nelle stazioni ferroviarie. dobbiamo impedire assolutamente che ci venga portata un'onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane. Quindi i controlli saranno rigorosi. Lo ripeto, la mobilità non è consentita. Ci sono ammende che vanno da 400 a 4.000 euro. Le forze dell'ordine saranno impegnate, credo, con grande determinazione. Chiunque sarà trovato fuori casa, senza motivo, sarà sanzionato. Allora, veniamo a noi. Noi stiamo preparando come Regione Campania la fase 2, senza squilli di tromba, ma con grande serietà e determinazione. Cioè ci stiamo preparando a quando, a fine aprile prevedibilmente, noi cominciamo a riprendere la vita normale. Voglio spiegarvi che cosa significa per noi la fase 2, innanzitutto dal punto di vista sanitario. Intanto voglio darvi due notizie. la prima che ci aprono il cuore a speranza. In questi giorni e giorni passati c'è stata la prima gravidanza conseguente ad una operazione di fecondazione assistita eterologa nell'ospedale Moscati di Avellino. È una bellissima notizia che, ripeto, davvero ci apre il cuore a speranza. E mi faceva piacere darvela e sottolineare anche la qualità dell'equip che al Moscati di Avellino segue la fecondazione assistita. Faccio gli auguri a Ciriaco De Mita che ha avuto questa notte un piccolo intervento sempre al Moscati di Avellino. L'ho sentito questa mattina, era di ottimo umore. I miei auguri al presidente De Mita di ristabilimento rapido ma credo che tornerà brevissimo a casa. E di auguri per il futuro oltre che per la Pasqua. Una premessa dal punto di vista della sanità campana. Voi avete visto che in queste settimane abbiamo avuto nella realtà ospedaliere del nord situazioni drammatiche. E avete visto che nei nostri ospedali con tutti i problemi abbiamo avuto una gestione attenta e senza drammi. in questo momento noi stiamo completando i test rapidi a tutto il personale sanitario che lavora nei nostri ospedali. Ovviamente il test rapido sapete che è solo sintomatico, non dà garanzia assoluta, però quando emerge qualche positivo facciamo il tampone che poi ti dà la certezza del risultato. perché stiamo facendo questo lavoro? Intanto per dare serenità al personale sanitario ma poi per avere ospedali assolutamente garantiti dal punto di vista della tutela dei pazienti. questa è un'occasione per capire tutti quanti che a volte andiamo negli ospedali del nord immaginando di avere chissà che cosa dimenticando che le eccellenze le abbiamo qui in Campania. Ora per carità abbiamo tante realtà di eccellenza al nord ma davvero non c'è nessun motivo e mai come oggi lo abbiamo capito tutti quanti per alimentare la mobilità passiva cioè per andarcene negli ospedali del nord. Abbiamo verificato sulla base dei fatti che abbiamo delle eccellenze mondiali in Campania il Cotugno è un'eccellenza mondiale per le malattie infettive il Pascale per le malattie oncologiche e poi grandi strutture ospedaliere da Caserta a Salerno ad Avellino a Benevento a Napoli davvero questa epidemia deve convincere tutti quanti i nostri concittadini che è arrivato il momento per bloccare questo fiume di partenze per il nord siamo più garantiti qui da noi oggi e abbiamo eccellenze straordinarie che possono dare risposte mediche chirurgiche a tutte le patologie possibili e immaginabili allora la fase 2 consiste in questo noi abbiamo avuto una fase di emergenza agli ospedali e quindi abbiamo avuto anche una promiscuità cioè abbiamo dovuto fare i salti mortali per recuperare posti letto abbiamo fatto le tende messo le tende davanti ai pronto soccorsi per evitare contatti fra pazienti covid e pazienti normali abbiamo lavorato in queste tre settimane ed abbiamo fatto un miracolo per realizzare ospedali dedicati ai pazienti contagiati dal covid oggi abbiamo in tutte le province della Campania ospedali dedicati soltanto a pazienti da coronavirus questo che cosa vuol dire vuol dire che da fine aprile noi saremo in condizione di riaprire anche l'attività ordinaria negli ospedali questa è una cosa davvero straordinaria che è stata fatta abbiamo a Caserta Maddaloni abbiamo a Napoli svuotato già da tempo il Loreto Mare ma stiamo realizzando un ospedale prefabbricato di 120 posti letto fra ospedale del mare Caserta Ruggi d'Aragona a Salerno a Salerno abbiamo un altro ospedale dedicato covid che è il da Procida al Moscati abbiamo una palazzina separata Alpi per i pazienti covid la stessa cosa a Benevento cioè oggi abbiamo la possibilità di separare i pazienti contagiati dal covid dagli ospedali e dai reparti normali quindi se per un mese abbiamo dovuto fare un'operazione di guerra cioè recuperare i posti letto dovunque e comunque il lavoro di queste tre settimane ci metta in condizione di riprendere l'attività ospedaliera ordinaria ovviamente ne approfitteremo per non portare attività ambulatoriali negli ospedali queste attività devono essere nei territori ma quelli che hanno dovuto aspettare perché avevano problemi cardiaci problemi gravi dal punto di vista del diabete traumi ortopedici ictus beh avremo la possibilità da fine mese di riattivare gradualmente l'attività ordinaria degli ospedali è una cosa davvero straordinaria che abbiamo fatto in più a fine settimana prossima cominciamo ad aprire i primi reparti attrezzati dell'ospedale mobile avrete visto in tanti di voi le immagini di questi 60 tir che venivano da Padova con le strutture di un ospedale prefabbricato è stata almeno per me una cosa emozionante badate facciamo un ospedale vero in dieci giorni non è una struttura che dovrà essere smontata a Milano hanno fatto un'operazione analoga dentro la fiera quindi hanno lavorato al coperto ma è una struttura ospedaliera che andrà smantellata alla fine di questa epidemia l'ospedale prefabbricato che realizziamo in Campania rimarrà perché è un ospedale vero con delle terapie intensive splendide modernissime credo che sia bene anche come dire sottolineare con soddisfazione e con orgoglio le eccellenze che abbiamo in Campania e anche le prove di efficienza amministrativa per le quali credo abbiamo conquistato il rispetto di tutti in Italia allora la situazione oggi è questa noi abbiamo avuto ieri 98 nuovi positivi su 2081 tamponi che abbiamo eseguito totale complessivo dei positivi in Campania è 3442 abbiamo fatto tamponi nella misura di 31 745 tamponi stiamo procedendo sulla base delle indicazioni dell'istituto superiore di sanità facendo i tamponi a chi vanno fatti il Veneto ha fatto un'altra scelta facciamo i tamponi a tutti quanti ovviamente non si fanno i tamponi a tutti quanti sono parole perché fra l'altro non ci sono i tamponi poi vi dico sui tamponi ma questa della tamponite è diventata una malattia facciamo i tamponi a tutti quanti nel Veneto dove hanno fatto decine miglia i tamponi i dati di ieri dicono che c'è stato un aumento dei contagi ovviamente a conferma del fatto che non è quello l'elemento decisivo ma è decisivo il distanziamento sociale e il controllo sul territorio della catena di contatti che hanno le persone contagiate dov'è che abbiamo ancora problemi perché abbiamo avuto ieri 98 positivi registriamo ancora dei micro cluster come dicono gli specialisti cioè dei piccoli raggruppamenti che dobbiamo sconfiggere ad Ariano Irpino c'è ancora qualche contagio di troppo abbiamo messo in quarantena il comune di Paurisi perché c'era un piccolo focolaio registriamo piccoli focolai fra Pagani Angri Sant'Egidio Montalbino nell'agro Sanese Ocerino registriamo qualche contagio di troppo ad Afragola Casoria Giuliano Melito a Mugnano mi dicono che la gente è tutta in mezzo alle strade abbiamo un piccolo cluster ad Ischia abbiamo avuto questa mattina una cattiva notizia che c'è una casa per anziani a Marano parliamo di una casa per anziani del tutto privata che non ha convenzionamenti con l'ASL dove è stato trovato un paziente positivo ora io ne approfitto per fare un appello a tutti quelli che gestiscono case per anziani case albergo a segnalare la propria attività alle ASL territorialmente competenti per fare preventivamente questi benedetti controlli perché se troviamo un paziente in questa struttura privata una casa famiglia un albergo gestito privatamente troviamo un paziente positivo questo che cosa significa che dobbiamo adesso fare i controlli su tutti i pazienti che dobbiamo fare i controlli su tutto il personale spesso il personale che accudisce gli anziani infermieri e non lavora in due tre case di accoglienza private quindi dobbiamo fare i controlli sui familiari del paziente del personale vedere dove è andato a lavorare questo personale cioè diventa una catena infinita di contatti da controllare il problema che abbiamo oggi è questo cercare di spegnere i focolai cioè le realtà nelle quali ci sono aggregazioni ma qui ci vuole davvero collaborazione a parte di tutti se no diventa un lavoro defatigante cioè ogni 72 ore viene fuori una struttura alberghiera che non ha avuto controlli noi abbiamo controllato tutte le case famiglie le residenze sanitarie assistite pubbliche ma chiedo davvero a tutti quelli che gestiscono realtà private di segnalarle e di darci una mano per avere controlli preventivi abbiamo deciso di incrementare l'attività dei medici in vecina generale per il controllo domiciliare manteniamo questa caratteristica non una grande ospedalizzazione però se facciamo il controllo domiciliare più attento e più massivo con i medici in vecina generale potremo portare in ospedale i posti letto li abbiamo grazie a Dio quelli che magari per due o tre giorni hanno febbre alta in maniera tale da non avere diffusione di contagio anche nelle famiglie c'è un problema ancora per quanto riguarda le forniture anche se devo dire che in larga misura abbiamo oggi una situazione di maggiore tranquillità abbiamo ancora una difficoltà per quanto riguarda i tamponi i tamponi che ci arrivano ci arrivano in misura limitata ma soprattutto manca a livello internazionale mancano i reagenti cioè mancano le sostanze chimiche senza le quali il tampone non può essere lavorato c'è una carenza mondiale stiamo cercando questi reagenti da ovunque nel mondo ma c'è un problema anche per questo motivo occorre fare i tamponi a quelli che sono sintomatici nelle realtà particolarmente a rischio nelle residenze per ansia l'idea di fare tamponi all'universo mondo è un'idea assolutamente sbagliata e irragionevole ma ripeto anche perché bisogna utilizzarli dove è necessario utilizzarli si è parlato dei test rapidi ho detto che il test rapido vediamo di capirci bene quando parliamo di salute dei cittadini bisogna essere precisi e seri cose estemporanee non sono consentite innanzitutto bisogna accertare di quali test rapidi si parla ce ne sono a decine e quindi è bene sempre avere un confronto con il cotugno con le autorità sanitarie pubbliche secondo il test rapido ovviamente non dà risultati certi per cui puoi avere da un test rapido uno che risulta negativo invece positivo e viceversa si rischia cioè di determinare una grande confusione e anche un grande danno perché se a uno a un cittadino fai un test rapido e gli dici guarda è negativo tutto a posto e poi è semplicemente uno asintomatico e se ne vai in giro tu rischi di rovinarlo allora bisogna avere grande senso di responsabilità e i test rapidi vanno sempre seguiti dai test da fare nell'ospedale perché il risultato va sempre verificato soprattutto nel caso di test positivi perché l'attendibilità e la certezza te la dà poi il tampone che viene fatto nelle strutture ospedaliere allora noi ci stiamo muovendo in una situazione che è assolutamente sotto controllo per avere la fase 2 anche dal punto di vista sanitario la fase 2 significa contenimento del contagio eliminazione dei focolai soprattutto residenze per anziani e ospedali dedicati alle persone contagiate da covid-19 questo ci consentirà la ripresa dell'attività ospedaliera ordinaria e sarà davvero un passo in avanti incredibile nella nostra regione senza parlare senza squilli di trombe ma stiamo già lavorando per la fase 2 a cominciare ripeto dal dal piano sanitario piano economico sociale della regione campania ora come sapete noi abbiamo abbiamo approvato un piano economico sociale che alla fine è arrivato a un importo di 900 milioni di euro è uno sforzo gigantesco che stiamo facendo anche qui siamo già nella fase 2 uno sforzo gigantesco per dare una mano alla povera gente alle piccolissime imprese danneggiate dalle ciusure di attività di questi due mesi ai professionisti che non hanno lavorato e così via allora per quanto riguarda la parte sociale del piano stiamo lavorando con gli ambiti territoriali piani sociali di zona come si chiamavano per avere gli elenchi delle famiglie con i disabili non gravi per trasferire direttamente a questi disabili il bonus della regione campania abbiamo deciso di non far pagare agli studenti le residenze universitarie per i mesi nei quali le università sono state chiuse attendiamo ancora l'elenco per le famiglie che hanno ragazzi sotto i 15 anni qui faremo un bando pubblico per dare un ulteriore contributo alle famiglie avrete delle informazioni dettagliate sul sito della regione campania da martedì prossimo sarà spiegato in maniera estremamente semplice qual è la misura che prevede la regione e come pensiamo di procedere per dare i contributi chiarisco che del piano socio-economico fanno parte gli operatori culturali gestori di cinema di teatri fanno parte della piccola piccolissima impresa che è stata anneggiata per quanto riguarda lo sport prevediamo già sostegni a gestori di palestre di attività che sono state bloccate in queste settimane poi vedremo d'intesa con il CONI sulla base delle risorse disponibili di dare ulteriori contributi per le attività sportive ricordando sempre che già per quanto riguarda gli impianti sportivi la regione ha fatto uno sforzo enorme lo scorso anno 270 milioni con la realizzazione di 70 impianti sportivi quindi se c'è qualcos'altro da fare grande disponibilità sulla base delle risorse che abbiamo voglio spiegarvi invece le due o tre misure un po' più sostanziose sulle quali ci sono state tante domande di chiarimenti da parte dei cittadini primo pensioni al minimo portate a mille euro per due mensilità non ce la faremo per aprile ma ce la faremo per maggio e giugno abbiamo chiarito in queste ore che quando parliamo di pensioni sociali parliamo di tutto non solo di quelli che hanno gli assegni sociali ma anche di quelli che hanno pensioni ordinarie di vecchiaia che sono al di sotto dei mille euro siamo arrivati a 250 mila persone a cui dare mille euro nel mese di maggio e nel mese di giugno allora attendiamo gli elenchi definitivi da parte dell'Inps l'erogazione di questo contributo regionale avverrà nella maniera più semplice possibile e cioè con le stesse modalità con cui l'Inps eroga la pensione mensile attraverso le poste italiane libretti postali accrediti sui conti correnti verranno accreditati anche i contributi di maggio e di giugno della regione campania per arrivare ai mille euro nulla da aggiungere comunicheremo ai diretti interessati ovviamente che avranno a maggio e giugno il contributo aggiuntivo della regione campania apro una parentesi lo sforzo maggiore che abbiamo fatto in questa settimana che abbiamo alle spalle ha riguardato innanzitutto le procedure di semplificazione il governo nazionale ha deciso delle cose anche importanti 700 miliardi il mess europeo che sarà a disposizione chiariamo bene due cose c'è stata in queste settimane l'idea che quello che si anticipava non dovesse essere più restituito capiamoci bene i contributi che arrivano il credito che viene erogato può essere alleggerito degli interessi ma alla fine va restituito vorrei che non ci fossero equivoci quello che decidiamo noi sono contributi a fondo perduto sulla base di una linea semplice che ha adottato la regione Campania pochi maledetti e subito vi diamo il contributo vi arriva a casa punto discorso chiuso queste misure nazionali avranno tutta una serie di complicazioni se si prevede credito agevolato alle imprese si dice dobbiamo passare attraverso le banche le banche devono fare l'istruttoria ma prima che una banca faccia l'istruttoria a decine di migliaia di imprese prima di tutto c'è un problema proprio di carichi di lavoro ma le banche non credo che faranno istruttorie superficiali quindi ho la paura che queste risorse come credito agevolato alle imprese arriveranno fra mesi noi abbiamo fatto un'altra scelta che si aggiunge a quella nazionale per l'amor di Dio quando arriverà il credito agevolato tanto di guadagnato noi abbiamo lavorato per portare da subito risorse nelle imprese e nelle famiglie pochi maledetti e subito senza complicazioni burocratiche cioè la sfida che vogliamo vincere è quella di fare arrivare questi soldi a cominciare dal mese di aprile dall'ultima settimana di aprile allora i mille euro per le pensioni arriveranno a maggio con la pensione di maggio e poi a giugno 250.000 pensionati seconda misura della regione un unatantum di 2000 euro alle piccole piccolissime imprese possono essere beneficiari quei titolari di piccole attività imprenditoriali colpite dalle chiusure di queste attività possono accedere a questo contributo di 2000 euro imprese che hanno sede operativa nella regione campania che risultino iscritte al registro delle imprese presso le camere di commercio che abbiano registrato un fatturato nel 2019 al di sotto dei 100.000 euro che abbiano un numero di occupati inferiore a 10 abbiamo dovuto fissare una soglia intanto perché le risorse non sono infinite ma poi perché onestamente se c'è un'impresa che ha un fatturato i 2 milioni di euro credo che possa fare a meno del bonus della regione campania di 2.000 euro per questo abbiamo cercato di dare una mano all'attività più piccola il bar il piccolo ristorante la friggitoria l'attività commerciale al dettaglio che ha dovuto chiudere perché ci sono state decisioni nazionali le domande per ottenere questi 2.000 euro possono essere compilate online devono essere compilate online e inviate mediante procedura telematica alla regione campania dalla prossima settimana pubblicheremo sul sito della regione nel sito della regione avremo il capitolo dedicato al piano socio economico quindi sarà pubblicato credo da martedì mercoledì il modulo per la domanda la domanda va compilata online può essere compilata dal titolare dell'impresa ma anche dal soggetto il commercialista quello che segue le politiche del lavoro e quant'altro si segnala sulla base di questo modulo la domanda per avere i 2.000 euro ci sarà almeno una settimana di tempo per presentare questa domanda una volta ricevuta la domanda noi verifichiamo solo la presenza nella banca dati del registro delle imprese delle camere di commercio fatta questa verifica noi comunichiamo al beneficiario a mezzo PEC l'ammissione al beneficio e disponiamo l'erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'Iban che c'è stato segnalato nella domanda da parte del richiedente per riassumere io piccola impresa prendo il modulo pubblicato alla regione lo mando in via informatica la regione fa la verifica con la camera di commercio se è iscritta questa azienda dopodiché sull'Iban che c'è stato segnalato dalla domanda noi accreditiamo la somma punto tutto tutto questo si può chiudere in dieci giorni questa è la sfida nella quale vorremmo impegnarci quindi c'è la piattaforma regionale a cui rivolgere indirizzare la domanda l'unica verifica che facciamo è che ci sia l'iscrezione vera alla camera di commercio basta poi le verifiche successive se aveva diritto non aveva diritto ovviamente quando faremo poi le verifiche a campione se ci sono dichiarazioni false le segnaleremo immediatamente alla guardia di finanza bonus per i professionisti e i lavoratori autonomi un unatantum di mille euro questa unatantum unatantum è cumulabile con i 600 euro del governo nazionale possono accedere a questo bonus i professionisti lavoratori autonomi che abbiano fatturato nel 2019 meno di 35 mila euro intesa questa cifra come ammontare complessivo dei compensi professionali effettivamente percepiti le domande devono essere compilate online firma digitale da parte dell'interessato verrà pubblicato anche qui il modulo per i professionisti e i lavoratori autonomi ricevute le domande noi verifichiamo solo l'effettiva presenza del professionista o lavoratore autonomo nelle banche dati degli iscritti alle casse di previdenza degli ordini professionali o alla gestione separata dell'IMPS dopodiché comunichiamo al beneficiario a mezzo PEC l'ammissione l'ammissione ai benefici e trasferiamo la somma sull'IBAM segnalato dal professionista professionista prende il modulo che sarà sul sito della regione fa la domanda lui o chi vuole autocertifica ovviamente nel modulo che è nelle condizioni per avere questo bonus facciamo la verifica dell'iscrizione all'ordine professionale e paghiamo direttamente come regione sul conto corrente sull'IBAM che ci viene segnalato per le aziende agricole possono accedere a questo bonus le aziende che hanno i seguenti requisiti essere titolari di partita IVA iscritti al registro delle imprese e camera di commercio nella sezione ordinaria e sezione speciale di competenza essere coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali essere in possesso di un regolare fascicolo aziendale sono tutte verifiche che si fanno in via informatica quindi non ci vorrà molto tempo prevediamo 1500 euro per i coltivatori diretti fino a 5 dipendenti 2000 per i coltivatori diretti fino a 5 oltre i 5 dipendenti le domande vanno presentate tramite un centro autorizzato di assistenza agricola accredita CA e l'intervento viene attuato con procedura automatica a sportello il CA verifica i requisiti trasferendo all'ufficio regionale competente il tracciato telematico delle informazioni necessarie procediamo anche qui in maniera assolutamente semplificata cioè i CA forniscono l'elenco dei beneficiari che rispondono a quei criteri per i lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere o extra alberghiere il governo prevede un contributo di 600 euro credo che allargeranno questo contributo ai mesi di aprile maggio e giugno noi abbiamo deciso l'erogazione diretta quindi tramite l'Inps di 4 mensilità 300 euro per 4 mensilità da marzo a giugno pensiamo di intercettare una platea di 25 mila lavoratori stagionali che ci sono stati segnalati dalle associazioni di categoria anche qui la procedura è estremamente semplificata quindi dalla prossima settimana nel portale istituzionale della regione campania noi apriamo una sezione dedicata al piano socio-economico in questa sezione avranno i cittadini beneficiari tutte le informazioni tutta la modulistica l'obiettivo che abbiamo è cominciare a pagare da fine aprile per i tempi che all'Italia questo è un miracolo ovviamente anche per noi è una sfida anche per la regione è una sfida ma vorremmo riuscire a raggiungere anche questo risultato di eccellenza fare davvero e in concreto una rivoluzione anti-burocratica superare la parude burocratica di questo benedetto paese vediamo se ce la facciamo io sono convinto che dall'ultima settimana di aprile cominceranno ad arrivare alle imprese ai professionisti alle famiglie con disabiti ai ragazzi che non devono pagare le residenze universitarie e poi a fine maggio e a fine giugno ai pensionati al minimo tutto quello che noi abbiamo previsto con il piano socio-economico e la regione campana arriveranno per giugno 900 milioni di euro quasi un miliardo di euro alle famiglie alle imprese ai professionisti non so quali saranno i tempi del governo nazionale i nostri tempi dovranno essere questi a cominciare da fine aprile abbiamo davvero l'esigenza di introdurre liquidità nel nostro sistema economico abbiamo fatto un accordo per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria abbiamo già dato all'Inps un elenco di 5.000 beneficiari della cassa integrazione straordinaria che è stata decisa per la crisi del coronavirus credo che sia il primo accordo fatto da regioni italiane per la cassa integrazione straordinaria vediamo in conclusione di coordinarci ovviamente con le decisioni del governo nazionale in relazione alle attività economiche da riprendere vi ho già detto prima che noi riteniamo di far partire abbastanza rapidamente le imprese edili le imprese che producono in maniera preconfezionata prodotti alimentari da portare a domicilio abbiamo tante imprese che possono lavorare con garanzie di tutela sanitaria per i propri dipendenti e che possono portare a domicilio in maniera controllata anche alimenti abbiamo ripeto questa richiesta ai balneatori noi cercheremo di non perdere un giorno di tempo quando fatte le verifiche sanitarie riterremo insieme con l'orientamento e l'istituto superiore di sanità che possiamo cominciare a ripartire anche con l'economia devo dirvi con grande sobrietà che quello che abbiamo fatto come regione campania ha avuto il rispetto di tutta Italia vi ho detto di questo ospedale prefabbricato che realizziamo in dieci giorni sarà anche questo un simbolo della capacità amministrativa e della concretezza che abbiamo messo in campo in queste settimane voglio dire ai nostri concittadini che abbiamo avuto modo di verificare una cosa di cui io personalmente sono convinto a sempre quando abbiamo problemi seri da affrontare problemi duri problemi che toccano la vita dei nostri familiari dei nostri cari le bandiere di partito non contano niente non contano niente conta davvero soltanto la capacità amministrativa la capacità di organizzazione la tenacia e anche quel tanto di passione civile di cui hanno dato prova migliaia di medici di infermieri di personale sanitario di associazioni di volontariato di persone impegnate nel trasporto pubblico nei supermercati passione civile che hanno avuto tanti che hanno dato una mano in maniera disinteressata hanno dato un aiuto economico un aiuto in dotazioni medico-sanitarie quando ci sono problemi seri da affrontare le bandiere di partito non contano niente contano le capacità amministrative e conta il sistema di valori il sentirsi umani è tanto difficile questa cosa capire che al di là di tutte le distinzioni quando hai davanti ai tuoi occhi la morte la tragedia le decine di camion dell'esercito che trasportano centinaia di bare quando hai queste esperienze che non possono non segnarti dentro devi capire che la cosa fondamentale sono i valori l'essere umani sentirsi umani umani nel senso di appartenenti ad un'unica grande comunità un'unica grande famiglia allora io mi auguro con tutto il cuore che la fase due di cui stiamo parlando sia una fase segnata da questi valori e da questa nuova consapevolezza delle cose importanti nella vita degli esseri umani e delle cose che è importanti non solo mi auguro con tutto il cuore che sia così che sia così lo dico perché mi è capitato di ascoltare qualche commento in relazione alla campania in queste settimane mi ha fatto perfino sorridere c'erano tante persone in Italia ma anche qui da noi che aspettavano in campania le catombe aspettavano che la campania finisse cento volte peggio della Lombardia mi è capitato di ascoltare qualche commento di qualcuno che sembrava quasi dispiaciuto che che avessimo fatto un lavoro importante in tanti migliaia di persone in campania gente dispiaciuta ma come è possibile che non abbiamo avuto le tragedie perché allora io mi auguro che la fase 2 sia una fase di serietà e di rispetto reciproco noi abbiamo dimostrato di essere una regione che cammina a testa alta e dobbiamo essere orgogliosi di questo con sobrietà con modestia con umiltà abbiamo bisogno tutti dell'aiuto degli altri ma possiamo camminare oggi a testa alta non era scontato che vivessimo questa tragedia come l'abbiamo vissuta con rigore con serietà anticipando spesso le decisioni che il governo poi ha preso dieci giorni dopo perché avevamo avevo la paura che nell'area più densamente abitata d'Europa se perdevamo il controllo della situazione qui veramente andavamo verso la tragedia di proporzioni inimmaginabili abbiamo lavorato con serietà e abbiamo conquistato il rispetto di tutte le persone serie di tutte le persone per bene del nostro paese continueremo così saremo vicini alle vostre famiglie alle imprese abbiamo fatto ripeto uno sforzo gigantesco per dare una mano ad alleggerire la condizione di vita nelle famiglie e la situazione delle aziende saremo vicini a tutti nell'ambito di quello che è umanamente possibile ma vedrete e riusciremo ancora a presentarci in Italia come un modello di serietà di rigore anche di di concretezza e di capacità amministrativa a voi tutti chiedo come sempre di aiutarci ad aiutarvi con comportamenti responsabili stringiamo ancora i denti ma credo di poter dire che cominciamo a vedere una piccola luce in fondo al tunnel intanto un saluto cordiale a tutti quanti voi un augurio di una buona Pasqua di giorni sereni nonostante tutto un saluto affettuoso a tutte le vostre famiglie un saluto 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 un saluto